Prende il via l'operazione estiva Mare Sicuro 2023 della Guardia Costiera che resterà attiva fino al 17 settembre prossimo con questa modalità tra Abruzzo, Molise e Isole Tremiti. Significa che tutta la componente operativa del corpo delle Capitanerie di Porto e in particolare della Direzione Marittima di Pescara non impegnata nell'attività di soccorso, attività che rimane principale del corpo, verrà impiegata per il controllo, la vigilanza delle aree soggette alla balneazione, in particolare le spiagge e l'area di mare prospicenti. Ogni giorno quindi 50 tra donne e uomini saranno impiegati sia in mare sia lungo la costa con 15 mezzi navali e 13 a terra per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione oltre al principale compito di salvaguardia della vita umana in mare. Le raccomandazioni sono quelle del buon senso e del buon padre di famiglia mi vorrebbe da dire però la nostra attività in questa prima fase non è tanto dedicata ai bagnanti quanto ai gestori degli stabilimenti balneari perché la prima attività, il primo check immediato, il più rapido sarà quello finalizzato a verificare che sia stato correttamente istituito il servizio di salvamento. Quindi che ci sia il bagnino, che il bagnino abbia il brevetto, che abbia tutte le dotazioni di sicurezza che gli consentono di esercitare la sua attività. Poi naturalmente ci sarà un'attività ispettiva più pregnante, più puntuale che vedrà non solo l'attività dei concessionari ma anche quella dei diportisti e quella finalizzata ad assicurare il controllo della tutela ambientale e la filiera della pesca. I rischi in mare, in particolare per i diportisti, sono l'imprudenza, la negligenza, il poco rispetto del mare. Devo dire però che ho felicemente trovato in Abruzzo grande collaborazione. Ho risposto con entusiasmo alla richiesta delle principali associazioni diportistiche di avere dei momenti dedicati di informazione e formazioni proprio sulla sicurezza della navigazione e sulla migliore interazione fra soccorritore e soccorso.